Ciao da Dario di Alternativa Linux. LMDE sta per Linux Mint Debian Edition. Ho accennato a LMDE 4 Debi nel video sulle differenze tra le edizioni di Linux Mint, ma nei commenti mi viene chiesto di tanto in tanto di più su questa particolare edizione di Linux Mint. Ecco, rapidamente, in cosa differisce dalle altre edizioni di Linux Mint da Ubuntu e da Debian. Nel rinnovato sito web di Linux Mint la pagina di presentazione e download di LMDE 4 recita il suo scopo è quello di assicurare che Linux Mint possa continuare ad assicurare la medesima esperienza di utilizzo nel caso in cui Ubuntu dovesse scomparire. Ci consente di accertare quanto dipendiamo da Ubuntu e quanto lavoro sarebbe richiesto in uno scenario simile. LMDE è anche uno dei nostri obiettivi di sviluppo, perché garantisce che il software che sviluppiamo sia compatibile al di fuori di Ubuntu. Lo scaricamento della immagine ISO consente di preparare appositamente una chiavetta per avviare Linux Mint Debian Edition in sessioni live, per installarlo o solo per provare il sistema operativo o verificare la compatibilità hardware. LMDE è una distribuzione Linux proposta con l'ambiente desktop e alcuni programmi della concomitante edizione Cinnamon di Linux Mint, da cui infatti è difficile da distinguere perché tutto sembra identico. I programmi sono quasi tutti gli stessi, ma in versioni meno aggiornate rispetto alle sorelle basate su Ubuntu. In LMDE 4 si trova LibreOffice 6.1, in Linux Mint 20.2 LibreOffice 6.4, ma le versioni a breve supporto di Ubuntu e Debian 11 prevedono già LibreOffice 7 o superiori, solo per fare un esempio. Anche l'utilità di installazione è differente perché Mint Cinnamon usa quella di Ubuntu, che è ben più articolata di quella di LMDE 4. Questa non prevede opzioni di installazione automatica. Puoi cancellare l'intero disco o effettuare manualmente le partizioni necessarie. E questo chiarisce già che l'approccio è meno semplice per un principiante di Linux rispetto alla edizione Cinnamon. Proprio il team di Linux Mint ha chiarito che con LMDE non intende fare concorrenza alle tre edizioni base di Linux Mint. Considera tale edizione come rivolta ad una nicchia di utenti, anche se non meno strategicamente importante delle altre. LMDE 4 è stata rilasciata in primavera 2020 e c'è da sperare che il lavoro di sviluppo di LMDE 5, ELSI, consenta di vederne presto distribuita una versione stabile, magari accompagnata da una procedura di aggiornamento più semplice di quella prevista per aggiornare LMDE alla versione 4 Debian. Questo perché ci si può attendere ancora un annetto di supporto e aggiornamenti per Debian 10 dopo il rilascio della versione 11. Poi converrà aggiornare di versione il sistema operativo LMDE. La base kernel 4.19 di LMDE 4 garantisce di ricevere supporto Linux per tale kernel fino al 2025, ma è bene non attendere tanto per aggiornare LMDE 5 e seguire le indicazioni future dal team di Linux Mint sul supporto di LMDE 4. I requisiti minimi di sistema di LMDE 4 sono inferiori rispetto a quelli della versione 20.2 di Linux Mint Cinnamon. Sono infatti dichiarati 1 GB di RAM, almeno 2 consigliati per un'esperienza pagante, 15 GB di spazio su disco, almeno 20 consigliati, 1024x768 di risoluzione schermo. LMDE 4, appena installata, al momento dei miei test richiede il successivo scaricamento e installazione di circa 600 MB di pacchetti per venire aggiornata. Dopo gli aggiornamenti, attivato il firewall, durante sessioni live circa 1,8-1,9 di memoria RAM sono impegnati dal sistema caricato e oltre 2,5 GB si raggiungono facilmente con altre attività. Non so dire se ci siano differenze a livello di autonomia e quindi consumi tra LMDE e Linux Mint, perché non è una prova che ho fatto, ma le differenze ci sono eccome. Facendo a meno della base Ubuntu ed appoggiandosi direttamente a Debian, con LMDE si può beneficiare ancora del supporto per architetture a 32-bit. Sono previste apposite immagini ISO nella pagina di download di LMDE. E le differenze sono anche nei repository, perché quella base di LMDE 4 non è di Ubuntu 20.04 LTS Focal come per le altre edizioni, ma direttamente quello del ramo definito stable di Debian. Linux Mint aggiunge ai repository di Debian 10 quello specifico per LMDE con impostazioni, aspetto, programmi appositariamente realizzati e altri. Nonostante non disponibili nella configurazione software di base di LMDE 4, sono installabili dai repository ufficiali anche tutti i codec multimediali per la riproduzione di formati proprietari di file audio e video e le applicazioni più amate di Mint come Hypnotics e Warpinator. Ubuntu si basa sul ramo unstable della concomitante versione Debian. Rispetto a Ubuntu ed altri progetti da esso derivati, con LMDE 4 e Debian vengono attualmente meno alcune caratteristiche come la possibilità di gestire PPA, cioè repository esterni per particolari progetti software. Un'altra differenza, oltre alla citata utilità di installazione meno voluta, sta nella gestione dei repository da parte di Debian. Verifica eventualmente i meccanismi per abilitare quelli che consentono l'installazione di software non libero. In LMDE si possono comunque installare lo Snap Store di Ubuntu e applicazioni aggiornate in Flatpak, integrando FlatHub. Quindi le possibilità di utilizzare software in versioni più aggiornate rispetto ai repository di Debian c'è comunque. Le differenze tra Debian e in particolare l'edizione fornita di Desktop Cinnamon e LMDE sono molto sottili e consistono principalmente nella versione dell'ambiente grafico e quindi il file manager Nemo e la dotazione di software specifici di Linux Mint Cinnamon. In Debian saranno di regola più datate della concomitante versione LMDE. Usare Debian senza intermediazioni è un approccio puro, assolutamente condivisibile. Debian viene rilasciata con qualunque ambiente desktop si desideri o in un formato minimo senza ambiente grafico per installare via internet solo i pacchetti desiderati. La base comune tra LMDE e Debian fa sì che tutta la ricca documentazione di Debian risulti pertinente anche se sei un utente di LMDE. Ma ad oggi la situazione è molto particolare proprio per il rilascio della nuova versione di Debian, che è quindi ad oggi più aggiornata sia della base di Linux Mint che di quella di Ubuntu. In estate è stata infatti rilasciata Debian 11, su cui si baserà il progetto LMDE 5 ELSI, di cui è già stato annunciato l'inizio dello sviluppo senza altre indicazioni di tempistiche. Le differenze saranno importanti specialmente nella base kernel adottata. È la 4.19 per LMDE 4 ed è invece la 5.10 per Debian 11. Ci aspettiamo che sarà la stessa base kernel in LMDE 5. Debian 11 prevede LibreOffice 7, Gimp 2.1022, InScape e tanti altri programmi in versioni più recenti rispetto ai repository di LMDE 4 e Linux Mint 20.2. Il tutto già nei repository di base. Però il Desktop Cinnamon di Debian 11 è nella versione 4.8. LMDE 4 fa peggio con Cinnamon 4.4 rispetto all'attuale 5.0.3 di Nemo e del Desktop di Linux Mint 20.2 Cinnamon. Io continuo ad usare Linux Mint Cinnamon e non saprei dirti come scegliere, poi non so come il tuo hardware più o meno datato possa rispondere all'uno o all'altro sistema operativo. Prova tutte le periferiche in sessioni live prima di fare una scelta tra LMDE 4 e Debian 11. Sicuramente Debian 11 sarà una interessantissima base delle prossime versioni di Linux Mint con base Ubuntu, oltre che ovviamente di LMDE 5. E potrebbe valere mettere intanto alla prova Debian 11 Cinnamon prima di un prossimo rilascio di LMDE. Proprio LMDE 5 rispetto a Debian 11 disporrà di un Desktop Cinnamon aggiornatissimo e di altre software molto apprezzati per Linux Mint come Warpinator, Hypnotix e Pix, solo per citarne alcuni. Una distribuzione su base Ubuntu come Linux Mint, Cinnamon e Le Sorelle è certamente più facile da configurare e gestire per un principiante di Linux. Debian e LMDE richiedono un pizzico di esperienza in più con Linux e sono più adatte quando si cerchi stabilità a lungo termine piuttosto che funzioni e nuovi programmi. Il ritmo di lavoro di Debian è infatti ritenuto spesso troppo lento e maniacale ed è la ragione per cui Ubuntu preferisce lavorare sulla versione unstable con importanti interventi di stabilizzazione dei relativi pacchetti software. Nei repository ufficiali delle varie distribuzioni troverai quindi programmi più aggiornati negli store di Ubuntu e derivate rispetto a quelli dei repository di Debian. Ma potrai anche installare lo SnapStore di Ubuntu o FlatHub e avrai una scelta simile a quella per Ubuntu. Un altro elemento importante è l'assenza della gestione dei PPA in ambiente Debian puro. Se sei utente Linux e per te è indispensabile ricorrere a tale meccanismo per installare qualche programma, non puoi fare a meno di una distribuzione su base Ubuntu. Che tu scelga di mettere alla prova LMDE piuttosto che Debian o che tu continui a preferire una edizione di Linux Mint più immediata e semplice da gestire, la tua personale curiosità e voglia di scoprire saranno gli elementi determinanti per farti provare altre distribuzioni o farti sentire a casa senza più cercare di meglio. Viva Linux! Ti ringrazio per l'interesse, ci rivediamo prossimamente se vuoi. Ciao! Grazie a tutti!